Ciascuno di noi nel tempo si costruisce un'immagine di sé, un'immagine che sia coerente sempre e dovunque e che non venga mai messa in crisi. E' per questo che spesso noi cerchiamo di difenderla, questa immagine di noi, di fronte a tutto ciò che ci arriva dal mondo o che arriva da noi stessi, che in realtà ci mostra la sua incoerenza, perché quest'immagine che abbiamo costruito è finta. Gurgepp la chiamava falsa personalità, che è appunto una maschera, in realtà non è solo una, sono una serie di maschere, chiamiamole così, che ci si costruisce nel corso del tempo, attraverso l'educazione, attraverso tutta una serie di esperienze che facciamo nella vita. E' qualcosa di falso appunto, che non è una vera personalità che ci costruiamo consapevolmente, ma è qualcosa che va a coprire la nostra vera essenza, che spessissimo è completamente diversa rispetto alla falsa personalità. Quindi l'immagine che noi ci costruiamo è completamente falsa, incoerente e di solito appunto non è una sola, ma è una serie di immagini frammentarie e noi non ci rendiamo neppure conto di essercene costruite così tante e di cambiarle a seconda di chi abbiamo davanti, a seconda del momento della giornata, a seconda del luogo in cui ci troviamo. Per distruggere queste immagini di noi stessi, per arrivare alla nostra vera essenza e non manifestare quella lì, ma costruire a quel punto una personalità, cioè recitare consapevolmente nel mondo, quindi non mostrare a tutti l'essenza, ma recitare nel mondo, Gurdjieff diceva che dovevamo imparare a considerare esternamente. Quello che facciamo agendo con la falsa personalità è la considerazione interna, che è questa spinta a difenderla strenuamente, a ricercare costantemente il proprio interesse personale, a rimanere a un livello molto ordinario delle cose. La considerazione esterna ha a che fare invece con la disposizione a perdere, a distruggere quella falsa immagine di noi, anche a costo di fare qualcosa che non ci conviene a livello ordinario. Quindi anche a costo di perdere la reputazione, quindi anche a costo di abbandonare qualcosa che ci fa comodo, che ci conviene. Castaneda la chiamava perdere l'importanza personale. Castaneda diceva che bisognava perdere l'importanza personale, quindi bisognava perdere questa spinta a difendere queste immagini di noi stessi. Sicuramente ci sarà qualcuno che risponderà a questo video dicendo eh ma queste cose si sanno, queste cose le ha detto questo tizio, questo tizio, quest'altro tizio. Sì perché negli ultimi cento anni in particolare queste cose hanno cominciato a dirle tantissime persone ma vengono da lì, non tanto da Gurgief e Castaneda ma dalla fonte a cui attingevano Gurgief e Castaneda in una maniera particolare rispetto alla maggior parte della divulgazione spirituale dell'ultimo secolo e mezzo. Il fatto è che questa cosa che tutti sanno poi effettivamente non la fa nessuno perché mettetela in campo questa cosa, mettete in campo quanto sia difficile perdere l'importanza personale e smettere di considerare internamente, non rendendosi ridicoli, non facendo chissà quale gesto violento e aggressivo nei confronti di se stessi ma cercando di perdere tutta questa ansia della reputazione che abbiamo e che abbiamo sviluppato in particolare negli ultimi anni perché quello che si manifesta sul social network a cui sei collegato o collegata è esattamente l'estrensecazione di questo tipo di importanza personale che noi portiamo avanti costantemente. È per questa ragione che qui non si parla delle vette, del pensiero di Gurgief, di Castaneda e di un sacco di altri personaggi che hanno detto delle cose interessantissime e molto accattivanti sui mondi invisibili, sulle regole che governano l'universo perché se prima non si è distrutta quella maschera, quelle cose non ha senso saperle perché quelle cose andranno sempre ad alimentare quella falsa immagine di sé e non qualcos'altro. Di modi per distruggere l'importanza personale e la considerazione interna ne esistono moltissimi e non sono uguali per tutti. Noi abbiamo dato degli esercizi per esempio durante un seminario su Gurgief e Castaneda e non tutte le persone hanno avuto le stesse difficoltà, alcune le hanno avute per certe cose, altri per altre cose, dipende molto. E anche se tu non hai difficoltà per esempio a regalare una monetina a uno sconosciuto che passa per strada e non un mendicante ma a una persona ben vestita senza vergognarti questo non significa che tu abbia distrutto la considerazione interna e l'importanza personale. È possibile che la tua maschera sia più estroversa della maschera di un altro che invece ha paura di distruggere le convenzioni sociali. La falsa personalità è una gabbia. Ci sono gabbie dorate, ci sono gabbie fatiscenti ma si tratta sempre di gabbie. Quindi non ha senso dire che tu la gabbia non ce l'hai se quella gabbia non è mai distrutta. Il percorso di distruzione della gabbia lo dobbiamo fare tutti. Ci sono delle gabbie che sono più funzionali nella società, altre che sono meno funzionali nella società, altre in cui stai comodo, altre in cui stai scomodo. Ma quella gabbia la devi distruggere. Distruggerlo è difficile, ci vogliono anni. È per questa ragione che noi, soprattutto sui social network, parliamo di questo livello delle cose. Non parliamo delle idee esoteriche, straordinarie di Gurgieff e Castaneda. Per mettere a posto questo primo passo delle cose ci vogliono anni. Non è un passaggio immediato. E chi di fronte a un discorso sulla considerazione interna e sull'importanza personale dice Eh sì, vabbè, ma io l'ho fatto. Eh sì, vabbè, ma io l'ho fatto. Eh sì, ma voi siete dei poveracci, io invece. Di solito è qualcuno che è ancora più imprigionato degli altri. Perché è imprigionato nella presunzione, che è un'altra caratteristica della considerazione interna. E non prova invece compassione, che a livello etimologico ha proprio a che fare con la considerazione esterna. Non considerarsi migliori degli altri, non considerarsi dove non si è, ma cercare di capire dove si è veramente e cercare di distruggere la gabbia.